ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale e oggi facciamo un'altra partitina con ION allora prendiamo la ricompensa giornaliera abbassiamo un po' il volume che è troppo alto così ok allora non abbiamo da fare niente per ora quindi fammi capire dove sono finito dove siamo a Verteron sono veramente intrusi e ho posizioni che chiamano la zona e l'Igea, Asmodee e l'Abysse dovrei capire in che parte del mondo sono ok siamo a Verteron poi c'è Poeta quindi noi siamo nella parte di qua c'è un'altra ancora qua c'è un'altra ancora Elisea Verteron ok quindi pratica il mondo è una, due, tre, quattro, cinque terre e qua c'è un'altra e qua c'è un'altra che è rossa non si sa la espansione buh va buono allora vediamo un po' prendiamo qualche quest prendiamo qualche quest questo clima è ideale per la raccolta allora avete già incontrato Balbua è un gentile agricoltore vecchio stampo produce un vino fantastico però non preoccupo per lui in caso di recenti problemi potreste cercare il posto mio ok andiamo a cercarlo arrivederci poi dammi anche l'altra decisamente sfortuna non è che per caso potreste portare la mandragola a Crodis a nome mio buona fortuna bene allora qua come mai abbiamo questo può spostare si questo timer non mi piace mi sa che mi sa che abbiamo scelto il momento sbagliato deve essere il countdown per il server mannaggia vediamo se riusciamo a farne almeno una ok di qua ragazzi dovremo farcela la vediamo un po' almeno a consegnare una quest certo che andare così ci stiamo 60 anni qui c'è anche i dinosauri guardami ora mi vengono dietro tutti a io che sono di basso livello raggiù c'è il temporale Allora ci siamo quasi, eccolo, trovata. Crodis, signor Crodis, buongiorno. Piacere di conoscervi. Ok, vediamo se riusciamo a fare l'altra. Trova. Ah, adesso devo tornare indietro. Ah, imbecille che sono. Non puoi vedere. Nola. Ispeziona la fattoria di Balbua. La scattoria della Balbua. Nola. Scusate un attimo, eh. Tanto so, dovremmo fare. Aia. Che palla, benissimo. Ma sto in alto. Posso usci dare una mano, se no muoio. Ci manca anche a muoio. E siamo a posto. E porca troia. Affice. Allora, animazione al punto di ritrovo, animazione al belisco. Scusi sta, la cittadale. Mannaggia, la miseria. Sono anche morto. Un po' di imbecille, bene. Ok, troverso che ce la faccio. No. Il cooldown, il cooldown, è sparito. Planiamo. E... E... Via. Prendiamo le ali. Allora. Dovrebbe essere qua vicino. Ok. Eh, però adesso non mi so. Mi curo. Questo com'è? Non gli posso dare il comando fisso. Di qua non posso passare. Dai. Allora niente, molto probabilmente non lo so che cos'era quell'affare lì. C'era un conto alla roversa. Va bene va bene va bene allora riusciamo a fare anche l'altra quest direi. Ahi sono pochi da bordo! Ahi che buono... Ahi che buono! Allora! E' un po' di più. E' un po' di più. Ahi! E' un po' di più. E' un po' di più. Intanto gli ciucciamo i soldi. Salve sono Nolo! Scusate, mi confondo con Neverwinter che parlano in inglese. Stavo dicendo, ma parlano in italiano. È un bello rincoglionino. Ok, missione compiuta. Adesso torniamo qua e ci fermiamo qua. Sono passati otto minuti. Possiamo farne ancora un'altra. Questo clima è ideale per la raccolta. Intanto prendiamo questa. Che cosa devo fare? Allora, non sono cattivi, sono animali formabili. Ma potreste fare qualcosa di un proposito. Un tempo i Sauri. Il numero dei Sauri è aumentato. Adesso... Quindi cosa devo fare? Va bene. Allora, ho ancora un po' di soldi da parte e vi rimborserò. Vi prego di cacciare... Ah, un po' di lupi. Ok. Arrivederci. Uff. È dura. Prendiamo anche questa. Delizio dei dolci. Se riuscite a tenere a bada quei ladri per riportarmi un po' di cucurio. Arrivederci. Va buono. Allora. Uff. È dura. Ve ne prego. Ah, ma l'avevo presa. Warg ha girato. Allora. Vediamo se qua. Allargiamo un po'. Warg famelico e Warg del terrore. Warg famelico. Warg famelico. ? Issa. Warg Famelico ragazzi sto castando le mie abilità così a casaccio abbiamo aumentato di livello ok poi vedremo nelle abilità dei punti nuovi abilità presa scossa di pietra faccio già questo si incantelimo spirito del vento mettiamolo qua catena calatarra mettiamolo qua sicuramente queste si attivano questo oggetto è sbagliato infatti me ne mancano quelli del terrore tutti questo è sparito allora non ho neanche letto cosa fa con la l'impossibile trovare l'oggetto questi spariscono il suo medico l'impossibile trovare l'oggetto che è che mi sta succhiando la vita non è questo allora questo del terrore l'impossibile oggetto sbagliato allora un famelico mi manca e uno del terrore terrore ne abbiamo uno qua niente non può essere utilizzato ma cos'è che c'è questo? continua a buscare allora nel terrore siamo a posto ce ne manca uno famelico eccolo qua ecco qua ce n'è un altro allora fatemi un attimo capire allora l'obiettivo è soluzionato inflige 31 danni da tarla è un obiettivo che si trova una distanza massima di 25 metri e riduce la sua velocità di sviluppo buono e allora questa l'abbiamo finita adesso vediamo qua raccolta di kukuru kukuru, kukuru, kukuru allora raccogliete del kukuru e portate una pianta arampiccante di un'amica della famiglia delle zucche che cresce alla fattoria di bel bua ok mi sembra che era laggiù la fattoria ci sono i ladri qua quindi bisogna stare attenti ok questa se non la posso prendere il vostro livello è troppo basso ma dai e adesso che sfiga vi ringrazio di avermi chiamato è stato portato via ma adesso non la posso la cazzo faccio a raccogliere quella roba vedi porca puttana la roba da mette pianta di zucca il livello è basso ma come faccio ad alzarlo perché non posso mai raccogliere le mele non me le fa più raccogliere ah no me le fa raccogliere l'altro giorno mi diceva di no perché sono diventato un deva sinceramente non ci fa questo cazzo allora dobbiamo alzare il livello ma che livello ci vuole? ok l'abilità è arrivata a 20 punti oh e vai è andata abbastanza bene eh eh porca cazzo potrebbe essere a scassarmi le palle qua la zucca no no posso raccogliere una volta ci ha raccogliere Raccogliamo il Kukuru Ok, ne abbiamo tre Ok, buono, buono, buono Ora sono venti minuti che giochiamo Quindi, direi che è finito qua Ci vediamo poi alla prossima volta Dai, non fallire Ahia La raccolta è fallita Dai, dai Direi che ce l'abbiamo fatta Eh, meno male Perfetto Andiamo a consegnare Le nostre questucce Questo crime è ideale per la raccolta Certamente E questa? Questo crime è ideale per la raccolta Ah, ok Ok Due Ne abbiamo fatto anche un po' più di due Perché c'era un cooldown lì in alto Che non so cos'era Va bene Sarà stato Non lo so Perché non sono molto pratico di questo gioco Anch'io piano piano Vado magari a leggere A volte le cose E niente Devo un po' studiarmi sta roba Ma lo farò Anche lì E ragazzi Ci vediamo Alla prossima puntata Di Ion Io vi ringrazio E se il video vi è piaciuto Lasciate un like E iscrivetevi al canale Ciao ragazzi Grazie